Quante, quante piastre stavamo mettendo Mi ha messo tipo 7 3 Ok, ho uno in casa, due in casa Quindi vado via Non mi faccio i cazzini Ho uno qua, Marco, aiuta Arrivo Non hai visto la scena Mi sono nascosto dentro un fuoco di paglia Dentro un... Non t'ha visto Non mi ha visto assolutamente, è arrivato lì Si è girato attorno Oddio, guarda che resisto So Grazie a tutti.